caro direttore su mps super mario si è tolto la medaglia d'oro del banchiere centrale pur di risolvere in fretta un problema nato per l'insipienza di via nazionale con la diligente complicità del suo scudiero il ministro dell'economia daniele franco anche lui ex banca d'italia trascurando che monte del paschi è ben amministrata il governo intima di consegnare a unicredit entro il 31 dicembre un istituto ripatrimonializzato gli oneri dell'operazione pari a circa 8 o meno 10 miliardi di euro restano ovviamente a carico del bilancio pubblico siamo certi che la banca più antica del mondo ripulendosi come del resto sta già facendo dal contenzioso non possa invece andare sul mercato raccogliere i capitali aggiuntivi necessari a diluire la quota del mef e porsi come soggetto indipendente se non ora con i mercati benevoli quando e siamo sicuri che non sarebbe stato meglio esplorare più convintamente la creazione di un polo bancario composto da mps banca popolare di milano e biper dedicato al credito alle pmi e al territorio d'altro canto nonostante la ibris del governo anche unicredit pare dubbiosa dell'acquisto e va svelato che in sede di selezione del nuovo ad il cd ad unicredit che non è certo una compagnia di verginelle ma di pezzi da 90 ben rappresentati da leonardo del vecchio ha fatto ricadere la scelta su un banker come andrea orcel proprio perché si era pronunciato contro l'operazione con siena anche per bilanciare la posizione del presidente pier carlo paduan in pieno conflitto di interesse istituzionale ex ministro dell'economia e politico dirigente pd nonché deputato eletto a siena a siena a siena a siena a siena a siena a siena